Signori, finalmente siamo ad Halloween, siamo a Moviland, come vedete. Mi sono già registrato per la Walk of Fear, spero di aver pronunciato bene. E niente, entriamo, entriamo e vediamo un attimo cosa si propone Moviland quest'anno. Allora, Welcome, molto bello, diverso dal solito, ovviamente a tema Halloween, è Welcome to the Family, che si ispira ovviamente alla famiglia Adams, quindi l'ho trovato molto bello, ovviamente decantato dal vivo, come Moviland sa fare, vivace, sprintoso, veramente bello, quindi si dà, complimenti. Allora, entrando dal portale, che vedrete da queste immagini, è stato piazzato un piccolo tema egizio. Personalmente questa cosa a me non piace, ma perché va a coprire poi quello che viene da fuori la Main Street. Quindi è un'opinione personale, quindi niente, è l'unica cosa che ho trovato, niente, tra virgolette. Andiamo a Matti, va. Beh, già che ci siamo, perché non fare un giro in carrozza, no? Andiamo a Matti, va. L'atmosfera si sente molto, soprattutto perché ci sono tanti cosplay, c'è nel senso comunque tema Halloween, però oggi in particolare è anche la giornata dedicata al tema steampunk qua a Moviland e si sente veramente tanto, tanto, tanto. Io aspetto le 14, come vi ho detto, perché ho già il full art, tra virgolette, per, diciamo, prendere strizza, sperando di prenderlo. Ragazzi, novità di quest'anno è il Meet & Scream, è un photoset a tema Holmes che sta davvero dando il meglio di sé. Veramente attori spettacolari e poi, vabbè, c'è una luce oggi che è veramente assurda. Quindi, approvato, adesso vi metto le mie foto, che grazie a Mattia, grazie a Mattia e agli altri, ho realizzato. Ovviamente, dopo il photoset si entra proprio nell'attrazione. Oddio, ciao oddio. Oddio, ciao oddio. Oddio, ciao oddio. Buongiorno, signore. Buongiorno, signore. Ben arrivato. Questa stanza non è ancora pronta. Attendete qui a destra. Buongiorno, signore oggetti e bioalimenti. Grazie. Benvenuti all'Onso Telsu. Mi chiedo di mettermi in fila indiana da questa parte, grazie. Raggiungerete le vostre stanzi in fila indiana, mantenendo le mani sulle spalle di chi vi precede. Il nostro è un hotel esclusivo, pertanto, foto e video non sono ammessi e nemmeno l'utilizzo di torce o fonti di luce personali. Nell'oscurità, seguite la luce rossa. Non si corre nei corrigioni. Non si torna in pieno per nessun altro. Se le stanze non sono di vostro gradimento, usate le porte di emergenza per uscire. Vi auguro un buon soggiorno, signore. Adesso stiamo andando a fare Fantasmic, che c'è una leggera novità, una piccola novità. Praticamente c'è il piccolo corso degli Akihafa Fantasmic, i Ghostbusters. Ti rilascia un attestato e io voglio il mio attestato, quindi procediamo. Una Chiafa Fantasmic! Andiamo, 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 andiamo! Via libera! Grazie, andiamo! Abbiamo fatto... Sì! Oggi iniziamo! Vado io, vai! Salvatore! Salvatore! Grazie! 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 Ottimo, grazie! Oggi parco decisamente pieno C'è un bel po' di gente Infatti abbiamo fatto anche un po' di coda all'OMS E c'è un po' di coda dappertutto adesso All'inizio era gne Adesso si è riempito bene il parco, devo dire Ci siamo cibati Adesso giretto con una rotaia come di routine Perché dopo pranzo si digerisce, si sta tranquilli, eccetera E aspettiamo le due che la fascetta che è intorno al polsodo Dovrebbe far succedere qualcosa Da quest'ora voi dovreste anche aver già visto il documentario Fatemi sapere sia sotto il documentario che sotto anche questo video Come è, se vi è piaciuto Perché ce la guardo davvero tanto E quindi sono hypato anch'io Una novità di Halloween, un'altra novità di Halloween C'è anche il labirinto per bambini Infatti noi siccome siamo bambini andiamo a provarlo Quindi Andiamo Io vado di qua Non riusciremo più perché ci siamo persi tutti Sono rimasto da solo D'aiuto Oh, finito Finito, finito, finito Eh scusi, c'è venuta l'eternità C'è venuta l'eternità Molto carino Mi è piaciuto Per bambini Però ci sta assolutamente Ci siamo equipaggiati per Un'esperienza Che vedrete tra poco Quindi GoPro e via Allora Qui saluto dal futuro Ho avuto un problema con le riprese POV Della World Call Fair Quindi non sono riuscito a caricarle E godetevi le altre Andiamo avanti E godetevi le altre No, no! Niente abbiamo tentato di salire su orbit ma si è rotta, io penso che può essere colpa mia forse è semplicemente bloccata e quindi li proveremo dopo signori il video da moviland finisce qui sono le quattro e io devo andare a fare i preparativi per il mio viazzo a Europa Park quindi grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto e mettete like e soprattutto iscrivetevi che dobbiamo crescere, stiamo crescendo molto su Instagram ma dobbiamo crescere molto anche qui quindi raga ci vediamo e alla prossima, ciao raga!